Nino ci parla ancora e sarebbe felicissimo anche perché non era una commemorazione triste e malinconica, c'erano tanti amici, lui aveva il senso dell'amicizia e quindi di essere incoronato si ritrarrebbe un pochino perché mio padre era davvero molto timido ed era pieno di pudori e di fronte a chi riconosceva il suo talento e diceva ma no non è giusto, non è vero che io sono uno scrittore, invece lo è e la dimostrazione sta nel fatto che dopo aver scritto quattro libri, tutti pubblicati da un editore che non sono io, anche Pupiavati ha voluto un film che forse è uno dei suoi più belli nel racconto di mio padre. E poi davanti alla facoltà di farmacia l'altra sua grande passione. Sì, è l'altra grande passione e lui l'ha fatto con molto serietà, parlavo di preparazioni galeniche, mio padre è del tempo in cui ancora venivano preparate le pomate, le supposte e ogni farmacia aveva la sua peculiarità, quindi lui aveva una sua clientela ed era molto stimato come farmacista, davanti alla facoltà è uno sguardo, facoltà di farmacia è uno sguardo al futuro e mi fa piacere perché anche io che faccio l'editore sono laureata in farmacia nella tradizione familiare, quindi una festa, ringraziamo mia madre, dicevo che non ha funestato con lampi e tuoni questa giornata perché la competizione con mio padre e l'amore erano fortissimi e quindi grazie anche a lei. Render omaggio a una persona importante come quella figura appunto di Giuseppe Sgarbi è assolutamente un dovere da parte nostra e quando si dedica una piazza, una via a qualcuno credo che sia qualcosa che rimarrà per sempre quindi è sempre motivo, come posso dire, di commuzione.